su web e al di là delle persone alla fine grazie io ho organizzato una volta un convegno un convegno c'erano 5 persone abbiamo avuto 15 mila persone abbiamo avuto 15 mila si è un ciclo in Italia è un ciclo 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 no grazie grazie a te grazie a te c'è stata una persona che mi tendono tu sei la persona che dice perché questa è una buona cosa allora eccomi qua dai posso posso compri un attimo o sei impegnato una cosa per favore vai è un ciclo ecco